La nostra azienda è nata nel 73, quindi abbiamo 50 anni da mio padre. Noi siamo un punto di riferimento oggi in Sicilia occidentale per quanto riguarda la fornitura di tondo per cemento armato, la lavorazione del tondo per cemento armato e poi anche del cemento, dei legnami da costruzione. Fatturiamo oggi intorno ai 6-7 milioni l'anno e abbiamo 10 dipendenti. Ho cominciato la gavetta 30 anni fa, chiaramente a poco a poco ho cominciato a prendere in mano l'azienda. Mio padre è presente ancora in azienda e comunque continuiamo ancora ogni giorno questo passaggio generazionale. Il cambio di brand dai talcementi ad Heidelberg è stato poco percepito, nel senso che comunque alla fine passavamo sempre da un grosso brand a un altro grande brand. I clienti non sono stati particolarmente stravolti dalle nuove grafiche, perché le grafiche sono pressoché identiche. Cambia soltanto l'aggiunta del nuovo brand, ma per il cliente non è stato un problema. Nella nostra area, fondamentalmente per il nostro tipo di lavoro, i prodotti più richiesti di Heidelberg sono il 325, il 425 e qualche volta anche il cemento bianco. Di Heidelberg Materials io sinceramente apprezzo molto l'organizzazione, l'essere totalmente a passo con i tempi, con le app, con il sito, le prenotazioni dei carichi avvengono in maniera molto veloce e automatica. E anche il controllo della qualità che è fondamentale, sostenibilità oggi nel panorama delle costruzioni. Grazie a tutti.